Avvocato Vitale, il rientro della Salma, la raccolta fondi, che cosa prevediamo? Dunque, abbiamo fatto questa raccolta fondi che è andata direi molto bene, nel senso che c'è stata un'ottima risposta, un po' la risposta che è venuta fuori anche oggi, di dolore ma di determinazione. Abbiamo assolutamente coperto la cifra, riusciremo a fare, la famiglia potrà fare anche una cerimonia, insomma un ricordo anche abbastanza significativo in Guinea, fortunatamente. Il 26 Mamadou Moussa sarà in Guinea, arriverà in Guinea e i suoi potranno finalmente riabbracciare almeno il suo corpo. Sicuramente adesso dovremo ragionare con loro, perché la raccolta diceva è andata molto bene, sicuramente oltre le aspettative, quindi se, insomma, immagino che faremo dei progetti qualcosa con quello che non è stato utilizzato per riportarlo a casa. Grazie Avvocato. Grazie a te. Grazie.